Social Podcasting, Your Digital Friends Le poesie di Alma Buongiorno a tutti gli amici e le amiche di Social Podcasting, io sono Giuseppe Cavaleri e oggi vi leggo una poesia tratta dalla raccolta di Pietro Pisano dal titolo Il peso specifico dell'attimo. La poesia prende titolo dal suo primo verso, Nel regno intero dell'attimo. Nel regno intero dell'attimo qualcuno sta ridendo e noi, nell'angolo acuto del giorno, lo guardiamo disegnando la risposta come un unico cervello per due corpi sconosciuti ritrovati nel medesimo stupore. Da questo viso si dipartono le linee di luce che forse un altro ancora dovrà afferrare per azionare come una ferita di gioia la vita. Social Podcasting, Your Digital Friends